Ciao a tutti da Rocco e ben ritrovati nel minuto innovativo di Aster. Oggi vi presentiamo una soluzione che trova spazio all'interno delle sale meeting, dove è sempre più frequente l'esigenza di lavorare da remoto e in locale. Stiamo parlando della Smartboard Pro 6000 S di Smart Technologies. Il monitor interattivo Smartboard Pro 6000 S di Smart Technologies si presenta come una soluzione all-in-one. Attraverso l'applicazione Smart Teamworks già installata nel monitor è possibile collaborare e contribuire in tempo reale dal proprio smartphone o dal proprio tablet. È possibile annotare presentazioni, file PDF, sfogliare dei documenti Office più in generale. Il Game Changer deriva dal fatto che essendo installata su Microsoft Windows 10 è possibile quindi integrare le principali soluzioni di audio e video collaborazione come Teams o Zoom per esempio. A fine della sessione è possibile esportare il recap meeting e condividerlo quindi con i partecipanti via mail oppure salvarlo su un cloud provider. È disponibile in tre tagli da 65, 75 e 86 pollici anche su carrello elettrico motorizzato regolabile in altezza. Per saperne di più scrivete a info-aster.it. Per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima puntata con il minuto innovativo di Aster. Ciao da Rocco! Ciao da Rocco!